Ben ritrovati e ben ritrovati. Ora importanti perché Turn Coppemainers si sottoporrà a nuovi esami al G-Medical per capire concretamente l'entità di questo problema che l'ha costretto al cambio in Juventus-Cagliari. Incrociamo le dita perché tendenzialmente si tende a minimizzare questo genere di problema. Ora è sempre un qualcosa di individuale perché nella passata stagione per esempio Manuel Locatelli ha sofferto molto però si parlava di un qualcosa quantomeno a primo impatto d'entità superiore rispetto a quello che sta vivendo fortunatamente ora Coppemainers. Quindi ci è voluto un po' di riposo, vedi un po' quali sono le risposte, fai gli esami perché sono sempre appunto gli esami a decretare, a definire il quadro e poi si agisce di conseguenza. Ora, ho già visto nelle scorse ore, rischia per la Lazio, rischia per questa partita, rischia per queste partite. Aspettiamo, come sempre in questi casi, l'esito degli esami perché è inutile sbilanciarci sul nulla tra l'altro, sulle sensazioni, su ciò che potrebbe accadere. No, qua vale secondo me proprio il referto, quello che ti dice lo staff e poi cerchiamo di capire concretamente cosa potrebbe accadere. Ovvio che se Copp per esempio non ce la dovesse fare per la gara con la Lazio, speriamo assolutissimamente di no, sarebbe un problema grosso per la Juve. Perché non hai Nico Gonzalez, non hai Conce Sao, squalificato, e non avresti Copp. Quindi sarebbe una situazione di grandissima emergenza offensiva perché avresti disponibile al rientro del KO UEA, avresti disponibile il Diz, avresti disponibile Bangula e avresti disponibile Vlaovic. Troppo poco, la coperta è molto corta. Amici amici, io continuo a battere su questo fronte e lo farò nei tempi prestabiliti perché poi è giusto che ci concentriamo anche sul calcio giocato. In vista del mercato di gennaio, giustamente parliamo del difensore centrale per sostituire Gleison Bremer a livello numerico, a livello di caratteristiche, uno così forte a gennaio non lo prendi. Parliamo giustamente del vice Dujan Blaovic perché con Arek Milikout, chissà per quanto tempo, non c'è un'alternativa in termini di prima punta a Dujan. Poi si può adattare chiunque, ma ad oggi c'è questa lacuna in rosa. Ma, giocando in questa maniera, lo dirò in uno sfinimento, secondo me manca principalmente un esterno d'attacco che possa anche alzare il livello perché Bangula sta facendo un percorso ma ad oggi non è all'altezza degli altri big. È partito molto bene nelle prime due, poi pian piano si sta ecclissando perché si alza il livello, magari lo conoscono anche gli avversari e quindi succede quello che è successo nelle ultime performance proposte dal Belga. Ovvero che sia indietro, com'è fisiologico che sia, perché stiamo parlando di uno che anche nella passata stagione con la Nevigen ha fatto vedere delle potenzialità, ma non è mai stato un campione di continuità. Quindi è inutile aspettarci che Bangula possa fare delle partite top, quantomeno in questa fase, e che possa rivelarsi una certezza. Se così fosse, sopravvaluteremmo l'intero quadro e sarebbe un gravissimo errore di valutazione da parte nostra. Quindi, da canto mio, spero che la Juventus possa fare qualcosa a gennaio, ma se mi chiedete, credi concretamente che possano arrivare tre giocatori, quindi il difensore centrale, l'esterno attacco e la punta, il mercato invernale, rispondo di no. Mentre penso che due ne possano arrivare, quindi il giocatore offensivo e il difensore. Sono preoccupato, mi, nel senso che sono ancora incazzato per i punti che avevo buttato con il Cagliari, che è diverso, perché poi, quando vivi una sosta così, ti becchi tutte le critiche, ed è normale che se te la vai a cercare, alla fine accada quello che sta accadendo, cioè processi H24, ma non voglio fare del mani-avantismo, continuo a dire che il pareggio con il Cagliari non c'entra nulla rispetto a quegli altri tre maturati prima, perché con la Roma non abbiamo mai tirato in porta, con il Napoli un buon secondo tempo a livello di gioco, ma abbastanza sterile. Con l'Empoli un po' disordinati e poco produttivi in fase offensiva con il Cagliari avremmo meritato ampiamente di vincere e dobbiamo fare mia colpa, mia colpa, mia colpa, perché se non la chiudi nei tempi consoni, alla fine succede quello che è successo, l'episodio ti va a punire. Quindi in termini di evoluzione, in termini di squadra, in termini di concetti, no, non sono preoccupato. Ovvio che, essendo la coperta molto corta, si fa male Nico, qualificato con Sesao, magari il dubbio Cop, è normale che da questo punto di vista emergano le preoccupazioni, perché hai poche soluzioni e comunque affronti tutte squadre strutturate. Il trittico Lazio-Stoccarda-Inter può darti lo slancio, quindi aumentarti l'autostima in maniera considerevole, pensare di poter fare la voce grossa ovunque, ma ti può anche un pochettino deprimere. La Lazio è una squadra fisica, una squadra che ha concetti con Marco Baroni, una squadra che tra l'altro verrà a Torino pensando che si possa fare, perché ad oggi in casa, in campionato, ne abbiamo vinto solamente una, con il Como. Pareggio con la Roma, pareggio con il Napoli, pareggio con il Cagliari. Bisogna invertire il trend, in casa bisogna fare sempre i tre punti, per poi sporcare qualcosa con le big quella in trasferta e cercare di vincere le partite, per esempio, che devi vincere, vedi Empoli, dove purtroppo non è accaduto. Quindi, amici e amici, in queste ore ne sapremo di più per quanto riguarda Cop. Vediamo anche se Azic, che potrebbe essere un'altra soluzione, se ce la farà rientrare per la gara con la Lazio. Però credo che sì, i segnali possano portare rapidamente ad accelerare i concetti in vista della sessione invernale, quando non hai moneta estremamente esonante, ma devi avere delle idee che devono fruttare. E soprattutto non devi fare quello che hai fatto in occasione dello scorso mercato invernale, cioè prendere i calciatori A, che non ti spostano, e B, con tempistiche che lasciano il tempo che trovano, perché Alcaraz è arrivato in ultime ore, Tiago Jalò era una scommessa, non è andata bene, non sta giocando neanche a Oporto, un mistero questo ragazzo, sembra che non possa più giocare a calcio, cioè da come viene trattato praticamente da tutti. Io onestamente, al caso Jalò, non so dare una risposta, valuto come vuoi la cronaca, non gioca mai, non so se è un discorso da associare al fatto che non si sia ancora ripreso altrettamente dal grave infortunio che ha avuto, ci può stare tutto, ma Max Allegri l'ha gestito in una maniera. Tiago Motta l'ha bocciato dopo il primo tempo in amichevole, ininfluente a Norimberga, a Roma l'hanno fatto andare lì e poi l'hanno rispedito. A Oporto per il momento non sta giocando, non è che credo che siano tutti cadutino dal pero, evidentemente c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non torna e sarebbe bello anche capire concretamente quale sia il problema. Niente, sono curioso di sapere il vostro punto di vista per quanto riguarda questa situazione, e piano piano, dai, amici e amici, questa sosta ce la stiamo togliendo, perché tra l'altro non so neanche se sia stata una sosta benedetta o maledetta, perché magari benedetta si riesce a recuperare qualche giocatore e eliminare le scorie di questo pareggio incredibile con i Cagliari, ma maledetta perché invece abbiamo vivo, io ricordo, proprio del match con gli Isolani e quindi alla fine della fiera ti ritrovi sempre a rivedere quei concetti, sempre a vedere cosa non si è andato, a parlare di Copp che comunque è uscito in quella gara. Non so che fotografia fare, anche qui voglio sapere il vostro punto di vista e sperando di avere notizie maggiormente concrete, più dobbiamo scolare la pasta ora da questo punto di vista, e vi do appuntamento a più tardi, però dite incrociate per Copp!